Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio con la nostra Roma, signori Master League, episodio 25 Allora, signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suoi senti e per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale Detto questo, signori, veniamo da due grandi partite contro Arsenal e Dortmund In cui abbiamo fatto delle vittorie sontuose e impressionanti E tutto questo ci ha portato a guadagnare la seconda posizione che vale la promozione in Serie A In Serie 1, signori Ci sono ancora tante partite, la sfida col Parma è ancora aperta Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi Detto questo, signori, procediamo con il video E una cosa che vi devo dire è che io sto registrando in rapida successione Perché purtroppo sto partendo Quindi io dall'episodio che avete visto mercoledì non ho potuto più leggere i commenti Quindi non so cosa mi avete suggerito per quanto riguarda l'acquisto di Henry E cosa mi avete suggerito per vari altri tipi di suggerimenti Quindi tornerò a leggere i commenti mercoledì prossimo Quindi voi continuate a darmi dei suggerimenti Continuate a dirmi giocatori da comprare O qualsiasi tipo di informazione Io cercherò poi di leggere e farò un recap totale Delle varie informazioni che mi avrete dato Detto questo, signori, io sto sistemando la squadra Sto sistemando la squadra E vediamo un attimino di farla girare giusta come deve girare Allora Così, 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 così Chi mi manca? Cellini al posto di Borlander Ok, siamo tutti al loro posto? Sì Borlander, Totti, Henry al centro Babangida e Espimas Detto questo, signori, scendiamo in campo contro chi giochiamo Che ogni volta mi scordo di vedere Contro la Fiorentina, signori Che è dietro di noi Però noi dobbiamo tenerla lontana Per un discorso Parma Perché Parma Dobbiamo mantenere la distanza sul Parma E quindi mantenere Una buona situazione calcistica Attenzione Se c'hanno Miatovic Che corre quanto Mamma mia, quanto cazzo non la corre Miatovic Che cazzo l'ha detto di passaggio di testa era Valeri Valeri, chiudilo Attenzione Questa Fiorentina Attenzione La Fiorentina è partita a bomba La Fiorentina è partita a bomba Dopo tre minuti Già una buona azione E un calcio d'angolo guadagnato per loro Attenzione Però Noi abbiamo un certo Babangida Noi abbiamo un certo Babangida Che vede Totti Bravo No Totti perde un pallone Porca miseria Che azione 12 Fa un dribbling Che dico Mi sta venendo un infarto Attenzione Attenzione Spima Se la porta fuori Nenne Ci vorrebbe pure un velocista Anche se Ho riflettuto su una cosa Che se L'attacco gira così bene E lo vedremo in queste prossime In queste due prossime partite Che Avremo di campionato Se la Ma porca Fiorentina 1 Roma 0 Signori Fiorentina Stavo dicendo proprio questo Signori Se l'attacco gira bene Invece di puntare su un certo Roberto Carros Potremmo puntare su un difensore veloce O comunque un difensore di stazza Che potrebbe essere un tale Roberto Che potrebbe essere un tale Turam Potrebbe essere anche un Jabstam Che in questo periodo se non sbaglio Proprio nel momento d'oro della sua carriera Che sono magari non giocatori Ah che cazzarola Giocatori alti Che ci possono aiutare In determinate situazioni Infatti se magari non velocissimi Il Jabstam non me lo ricordo Proprio veloce veloce Però Però sono quei giocatori Che ti possono comunque Dar sicurezza Nel reparto difensivo E non Stare a prendere i funghi Come stiamo a far Prendere per ora Praticamente Dezzi Con il calcio d'angolo Li regaliamo Al quindicesimo Fiorentina 1 Roma 0 Dopo due vittorie Sontuose Attenzione Per la prima volta La Roma si trova Sotto 1 a 0 Dopo due vittorie Sontuose Contro l'Arsenal E il Dortmund Ci troviamo A dover Recuperare il risultato Espimas Espimas Mamma mia Ci ha provato Espimas Va bene Intanto è un È uno squillo È uno squillo Facciamo capire alla Fiorentina Che noi siamo Anche noi in campo Non stiamo solamente qui A A guardare loro Fare il calcio spettacolo Ma ci siamo Anche noi Con calma Miranda 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 Non perde il pallone lì Perché è gravissima Ci stanno Ci stanno a fare Ci stanno a fare Il gioco che voglio No dai Ma non possiamo Perché Che cazzo Non è proprio Minza Sta Fiorentina È partita a pallettoni Proprio Ma porca miseria Totti Totti Vorlangen 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 Espimas Che c'è un po' di spazio Se ne va Costetta a fermarsi Arri Si gira Arri Arri Non tiene fisicamente Arri Attenzione Brutto Brutto segno Questo Arri Che non tiene fisicamente È una cosa Terribile Ce la fai a passarla Sì Ok Guarda Totti 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 Che vede Vorlangen Che però Dorme E un momento Si faceva Recuperare No signori Non lo so Sono tutti dopati Quelli della Fiorentina Stanno a giocare Proprio A pallettoni Al 28 Non abbiamo visto Un'azione Della Roma Non siamo usciti Una volta Nella Nella loro area Non siamo riusciti A esplodere Nessuno dei nostri Giocatori Attenzione però Babangita Si fa Provato il goglio Di Babangita Che si è fatto Tutta quanta la squadra Babangita 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 Cerca Totti 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 Mi dà fastidio Quando deve prevedere Quando già sai Il movimento che faccio Mi dà un fastidio Incredibile Incredibile Uff Mamma Stavolta L'intervento di scivolata È riuscito Signore Stavolta L'intervento di scivolata È riuscito Nella partita Contro il Parma Questo intervento di scivolata Mi era costato Il pareggio Al novantesimo Per fortuna Stavolta L'intervento di scivolata Cazzaro Lì dovevi sfondare la porta Arrimio Arrimio Lì dovevi sfondare la porta Chi ci va a saltare Quello che è alto Un metro Una tic tac Praticamente No 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 Ok Calma Totti Riesci a mettere laggiù Totti 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 Al quarantesimo Totti 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 Apre per Espimas 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 Quella fascia Non rendiamo Mi sto rimangiando le parole che ho detto prima Di puntare su un difensore e non su Roberto Carlos Harry 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 Espimas 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 Ma perché questi cross brutti 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 Non riusciamo a fare un cross giusto Minuto di recupero Fiorentina 1 Roma 0 La Roma è ancora libero La Roma è ancora lì Attenzione Valeri Si inventa uomo assist Valeri Valeri Si inventa uomo di fascia Palla per Totti Che si gira Totti L'ha respinto Arriva il Bamba Niente signore Non deve entrare sta cazzola di palla Sta cazzola di palla Non deve entrare Porca miseria Ma porca miseria Devo vedere quanti tiri in porta abbiamo fatto noi E quanti tiri in porta hanno fatto loro Che stanno a vincere 1 a 0 Mi fai vedere questa cosa? Tiri 6 a 5 Addirittura loro hanno fatto più tiri di noi? Va bene Questa cosa mi punge nell'orgoglio Questa cosa mi punge nell'orgoglio Perché questa palla brutta? Jorga Subito Babangita 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 Che decide di non andare per via centrale Vede Totti 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 Che rivede Jorga Brutto fallo su Jorga Preso da dietro E Jorga non si alza Jorga non si alza Attenzione Infortuna per Jorga Va bene Abbiamo capito Boh Boh È morto Ho capito Ho capito Lo posso sostituire? Sì Allora In postazione Chi è che si è fatto male? Ah nessuno Ma Jorga mi aveva detto Io lo sostituisco Jorga signori Jorga Facciamo entrare Un terzino Chi è più veloce? Resistenza Accelazione E' più veloce E' più veloce E' più veloce Non so che cazzo L'ora sia Ma facciamo questa sostituzione Fuori Jorga Dentro E' più veloce Jorga la mette giù Jorga Ivanov la recupera Ivanov la para Devi semplicemente dire Che Ivanov l'ha parata Porca miseria Infame Attenzione Egli tonne Cerca subito Egli tonne Beh Babangida 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 Rientra E che cazzo Rola respinta Il pallone Da tolta Ma nessuno Riesce A intervenire Beh grandissimo Qui l'intervento Valery Attenzione 1-2 in difesa Riusciamo a tenere la palla Babangida Riparte su quella fascia Babangida 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 Bruciato Ferricano Babangida Babangida Cerca Arry Cercate Arry Per cercare di aprirla ancora E avere più spazio Per poter Per poter tirare dentro E invece non mi è riuscita Totti 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 Para Arry 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 Che vede il bamba Che entra in aria Il bamba No vabbè Ci stiamo mangiando Il pelatone Egg di tonne Egg di tonne Il pelatone Vede Ducic Che vede ancora Babangida Che deve evitare La rimestra Darale Non ci riesce Deve evitare La rimestra Darale Non ci riesce Cosa ci siamo mangiati Signori Ora Ma è possibile Secondo voi Ci siamo mangiati Impossibili Ci siamo mangiati Lì E Gditon Subito Che vede Totti Che vede Babangida Che parte su quella fascia Attenzione Babangida 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 E in aria Babangida No vabbè Allora Caccio d'angolo Miranda 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 Vede Totti 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 Che si gira Però nello stretto Totti Totti Ma Ma io perché Non ti Attenzione Ancora Ancora Riusciamo a tenere Sto pallone Miranda 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 Per Egg di tonne Egg di tonne Che vede Comunque Babangida Che riesce a partire Babangida Bruciati i difensori Babangida E in aria Babangida E che No vabbè No vabbè Signori Questo proprio Vuol dire Non Non Diventerà Sto pallone Questo vuol dire Sono proprio i segnali Che la partita Deve finire così Mamma mia Impressionante Impressionante Mamma mia Che stress Che mi sta venendo Mi sta venendo L'Orticaria Mi sta venendo L'Orticaria Per chi non sapesse L'Orticaria È tipo una sorta Di herpes Da nervosismo Miranda Recupere un gran pallone Miranda Recupere un gran pallone La dà subito Babangida Che ancora riparte Su quella palla Firicano Non l'ha mai vista Firicano Non l'ha mai vista Il 26esimo Signori Herry Non può sbagliare Questi gol Herry Per quello che ci ha Abituato Nelle prime due partite Non può sbagliare Questi gol Herry Non può sbagliare Questi gol Signori Questi sono gol Da mettere dentro Il 28esimo Stiamo perdendo 1-0 Contro la Fiorentina Che attenzione Tanto di cappello Non voglio assolutamente Dì che la Fiorentina Babangida Firicano Non ha mai visto Il pallone Oggi Firicano Non ha mai visto Il pallone Babangida L'hai visto Che c'è il difensore Davanti Porca miseria Miranda Dal 34esimo Per Totti 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 Che riesce a girarsi Totti 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 Oh Pareggio della Roma Finalmente Mamma mia Mamma mia L'avevo vista di nuovo fuori Signori L'avevo vista di nuovo fuori Finalmente L'assist di Totti Babangida La stoppa Si gira In un fazzoletto E trova l'angoletto Roma 1 Fiorentina 1 Mamma mia Porca miseria L'avevo vista L'avevo vista di nuovo fuori Vi giuro L'avevo vista di nuovo fuori Egditon Egditon Granchissimo L'intervento di Egditon Due volte Gli ammazza tutte e due Rimangono a terra No si alzano Porca miseria Egditon Il pelatone Mi piace Egditon Signori Mascotte della squadra Mascotte della squadra Riusciamo a evitare Oh Meno male Fuori gioco Mamma mia Il 37esimo Il 37esimo Il pareggio ci può star bene No Vabbè Dai No 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 Vabbè Dai Dai No C'è No 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 C'è Mi fai queste cagate Dai Ma che cazzarola Dici Ma che cazzarola Dici Ma che cazzarola Dici Tu la tuoi Subito Dalla Roma Mamma mia Mamma mia Che partita Signori Cioè Ci abbiamo messo 70 80 minuti Per trovare Il gol del pareggio Questi vanno In vantaggio E noi la ripareggiamo Subito Ma di che cazzarola Stiamo parlando Ecco No 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 Egditon Se tutti noi Grandissimo Totti Totti La mette giù Totti 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 La smitti Ti fa il balletto Del samba Totti Attenzione Attenzione No Firicano Questa volta Questa volta La vede il pallone Questa volta Il pallone L'ha visto Firicano Pallone per Miranda Miranda Che cerca Babangita Che brucia Ancora un'olta Allaggia Perché non l'ho passata Perché non l'ho passata Minuti No Da quando Sanno saltare Così questi E' un 2 a 2 Signori 2 a 2 Forse 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 Totti 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 No Me la fa fare Finisce 2 a 2 Signori Fra Roma E Fiorentina Un risultato Assurdo Un risultato Assurdo Sono andati in vantaggio Loro Siamo stati Una partita Praticamente 15 tiri Per la Roma 11 per la Fiorentina Parma batte l'Amsterdam E quindi mi sa che siamo a pari punti Il Dortmund perde contro il Rio de Janeiro Attenzione Questa è la notiziona E il Westen parecchia contro l'Arsenal Doppietta di Babangita Su l'assist Prima di Totti E poi di Esfimas Eh signori Poco da dire Poco da dire Vediamo un attimino la classifica Dovremmo essere sempre secondi Se non sbaglio O comunque a pari punti col Parma Guadagniamo altri 2 punticini Saliamo a 32 Siamo sempre secondi A pari punti col Parma E a 2 punti dal Dortmund E dobbiamo stare attenti signori Non possiamo sbagliare più di tanto Un pareggio che è un po' così Però va bene Detto questo signori Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao